Le risposte di Toti, cioè? Io sono molto contento di questo vento garantista della destra italiana. Sono molto preoccupato che questo vento garantista c'è perché parliamo di uno esponente della destra italiana. Perché il problema italiano è esattamente questo, una destra che diventa iena quando accadono cose ben meno gravi di quelle che sono accadute e stanno accadendo a Genova e diventa iper garantista quando si tratta di esponenti di destra. Un mese fa, per fatti ma molto meno gravi, di un'indagine che deve andare nei tribunali sulla vicenda barese, si è istituita una commissione per sciogliere per mafia il comune di Bari e abbiamo assistito a un'aggressione senza parole rispetto a persone che neanche hanno avuto nessun tipo di avviso di garanzia. Ora quelle stesse persone dicono che bisogna essere garantisti. Io sono contento, dobbiamo essere garantisti. Non credo a naso che un'istituzione come una regione, in un'elezione diretta del Presidente possa andare avanti a lungo in una condizione come questa e penso, ma non è questa una decisione che aspetta a me, che sarà ovvio che si vada verso elezioni anticipate. Quindi io sono contento, mi permetto di dire, però segniamoci tutti questi ragionamenti sul garantismo perché temo che siano molto pericolosi perché è un garantismo alla carte quando mi conviene. Quando diventa strumento di battaglia politica, invece ce lo dimentichiamo. Ricordiamocelo anche nel futuro. Intanto facciamo un nodo al fazzoletto così siamo garantisti sempre, mi pare che dica Zingaretti.